Eder. Mech. Pallister. Eder. Mech. Pallister. Quello che chiedeva a gran voce giustizia per la sorella è ora iscritto nel registro degli indagati per omicidio, come riportato dal Corriere della Sera, questa nuova piega delle indagini potrebbe finalmente gettare luce su un caso che ha lasciato la comunità in sospeso per più di due anni. Il luogo del delitto, sotto i piloni della linea dell'alta velocità, ha visto numerosi sopralluoghi, tra cui uno recente effettuato dagli investigatori del Nucleo Investigativo di Torino. Accompagnati dalle unità cinofile, gli investigatori hanno ispezionato nuovamente l'abitazione di Angelo Arena, alla ricerca di nuovi indizi o tracce che possano far avanzare le indagini. Sebbene Angelo sia stato portato in caserma e interrogato, nessun provvedimento è stato ancora preso nei suoi confronti. Questa iscrizione nel registro degli indagati viene vista come una mossa tecnica, volta a consentire agli inquirenti di compiere accertamenti che non erano stati possibili in precedenza. Angelo Arena è, al momento, l'unico nome legato a questa indagine, il che accentua il suo ruolo centrale nelle indagini, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti via quella legata a un possibile movente economico. L'eredità della madre, deceduta due anni prima, che avrebbe lasciato una somma di 120.000 euro ai due fratelli, tuttavia, sia Angelo che suo figlio Simone hanno negato qualsiasi tensione o dissapore legato all'eredità. Il caso di Giuseppina Arena rimane un enigma, un puzzle intricato che gli investigatori stanno cercando di risolvere con ogni mezzo a loro disposizione. Mentre la comunità attende risposte e giustizia, le indagini continuano, sperando che la verità possa finalmente emergere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare!